Montesilvano reggina dell'inquinamento acustico e atmosferico, a dirlo i dati presentati da Lega Ambiente WWF e il comitato costituitosi per l'occasione. Si tratta di un'aurea fortemente popolata di mezzi pesanti e l'allarme è concentrato sui danni verso i residenti. Se i dati dell'arta dicono che si superano i limiti, i limiti sono i limiti massimi tollerabili. Vuol dire che al di là di questi limiti, sia per l'inquinamento acustico sia per l'inquinamento atmosferico, ci possono essere danni per i cittadini. Ma a Montesilvano si è superato veramente ogni limite ed è necessario, fondamentale, che Montesilvano non diventi la pattumiera dell'area metropolitana, ma diventi un'area perfettamente integrata nell'area metropolitana nella quale i cittadini possono vivere bene in salute. Un appello all'amministrazione comunale per ottenere un intervento immediato sia breve che a lungo termine, che comprenda anche una riduzione dei flussi di veicoli che potrebbero compiere lo stesso tragitto utilizzando l'autostrada. Ci sono certi dati veramente allarmanti, in alcune situazioni è andato addirittura a fondo scala il macchinario, ma noi chiediamo il ripristino di questi dati alla normalità tramite, lo chiediamo alle istituzioni che possono fare qualcosa, quindi al comune, alla provincia, all'ANAS o alla regione, noi questo non interessa. Abbiamo creato una raccolta firme, l'abbiamo creata da poco, ma andremo avanti, anche con degli esposti che faremo nelle sedi competenti per cercare di far tornare la qualità dell'aria, insomma del traffico e della vivibilità della zona a una situazione umana.